L'Attino esce battuto di misura da Volta Mantovana in gara 1 di finale. Dolce Amaro KO. Dolce perché le Rosso-Blu sono riuscite a recuperare due volte lo svantaggio. Amaro perché, proprio al conquistato tie-break, il nettissimo doppio vantaggio di più 5, 7 a 2, 11 a 6, sembrava garantire il successo in rimonta che le ragazze di D'Amico avrebbero meritato, senza nulla togliere, sia chiaro, alla forza delle Virgiliane guidate dall'ottima Giroldi ex Teatina in regia. E' dal quartetto composto da Tosi Coppi, Ferrarini e Boninsegna. Impresa complessa, ma le nostre, trascinate da una strepitosa Zingoni, ben affiancata dalla Spicocchi, nonché dalla solita coppia Longobardi e Restini, erano riuscite a realizzare il colpo Corsaro dopo un quarto set in sofferenza, vinto a 23. Poi la luce spenta all'improvviso, con una progressiva risalita delle Lombarde dal 6 a 11 al 12 a 11, con un parziale in negativo di 0 a 6, fino al cedimento di coda che avverga il 3 a 2 delle Mantovane. Domenica prossima il ritorno per il gran finale, la A2 attende l'occasione forse irripetibile, le bimbe del Prespapa puntano al 3 a 0 3 a 1 per ottenere il passaporto e concludere una stagione in ogni caso fantastica. Il 3 a 2 porterebbe le formazioni al Golden Set, quello decisivo, uno solo, meglio non pensarci, ci sarebbe da restare stecchiti e allora, tutte concentrate sulla partenza, vincere la prima frazione potrebbe dare la spinta giusta. Le potenzialità ci sono tutte per guardare le avversarie in modo definitivo dall'altino verso il basso. Le potenzialità ci sono tutte le potenzialità, vincere la spinta giusta, vincere la spinta giusta, vincere la spinta giusta, vincere la spinta giusta.